Gentili telespettatori, buona giornata. Ieri abbiamo sentito la conferenza stampa di Mario Draghi che trionfalmente diceva che il governo bloccherà gli aumenti delle bollette di gas e luce, li bloccherà nel senso che aumentano, ma noi andremo a intervenire con i soldi e così gli italiani alla fine non avranno quasi nessun aumento, quindi andremo a compensare noi come governo. Però andando a leggere bene, attenzione, perché saranno molto poche le persone che saranno beneficiate da questo taglio, non è un taglio per tutti, ci saranno tanti che avranno il pieno aumento del 30-40%. I benefici saranno per 5,5 milioni di persone, meno del 10%. Meno del 10% degli italiani avranno il taglio sugli aumenti di luce gas. L'altro 92-91% si beccherà il 30-40% di aumento. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto del valore di 3 miliardi, di cui 2,5 per azzerare gli oneri di sistema e calmierare gli aumenti e 450 milioni come bonus sociale per le famiglie povere. Draghi dice che senza questo intervento ottobre ci sarebbero stati rincari fino al 40%. Eh ma ci saranno, per il 92% degli italiani ci saranno, caro il mio Draghi. E poi attenzione, sono fino al 31 di dicembre, sono fino al 31 di dicembre questi 5,5 milioni di italiani su 60, pagheranno la stessa bolletta di prima, ma fino al 31 dicembre. E dopo chissà. Eh? Dopo chissà. Bene, andiamo un po' più a fondo nella notizia. Le nuove misure intervengono a vantaggio di degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del bonus energia. Si tratta dei nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro all'anno. Cioè quelli che ricevono 8.265 euro lordi. Oppure nuclei familiari numerosi con ISEE 20.000 euro annui con almeno 4 figli. Cioè immaginatevi papà, mamma e 4 figli in 6 con 20.000 euro lordi all'anno. Cioè 1.500 euro lordi al mese che si trasformano in 1.000. Ecco, 1.200 euro con 6 persone, allora si rientra in quella categoria. Oppure quelli che hanno 800 euro al mese lordi di stipendio. Quelli che hanno un ISEE di 8.265 euro annui. Per costoro, che vi ho appena detto, tendenzialmente saranno azzerati gli effetti dell'aumento della bolletta. Stesso discorso per i 2,5 milioni di persone che beneficiano del bonus sociale gas. Poi c'è circa 6 milioni di piccolissime piccole imprese con utenza di bassa tensione. Per 26 milioni di utenze domestiche fino a 16,5 kilowatt saranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Altro intervento importante riguarda il taglio dell'IVA sul gas al 5% per tutti gli utenti. Oggi prevista al 10 e al 22% a seconda del consumo. La bozza del provvedimento, approvata ieri nel Consiglio dei Ministri, per mitigare gli aumenti delle bollette di elettricità e gas, si muove nella giusta direzione in quanto scongiura per il prossimo trimestre parte degli annunciati rincari dei prezzi per imprese e consumatori. L'intervento del Governo non è però ancora sufficiente a risolvere in maniera duratura e strutturale i nodi che attanagliano il nostro sistema energetico. Dicono comunque che è un passo avanti, ma ancora insufficiente, la luce di un aumento annuo della bolletta della luce di 112 euro e 158 euro per il gas. Quindi dovrebbe essere anche, esatto, il beneficio sarà anche, ascoltate bene, per i percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza e utenti che hanno delle condizioni di salute non buone. Quindi anche quelli che hanno il reddito di cittadinanza non avranno aumenti di luce e gas, o perlomeno l'aumento c'è, ma interviene il Governo in bolletta che vi scarica l'aumento, ci mette il Governo i soldi. Fino al 31 dicembre. A gennaio, chi lo sa, a gennaio non si sa. Magari cade il Governo con l'elezione del Presidente della Repubblica, ci saranno nuove elezioni, bisogna vedere se qualcuno prorogherà questa cosa qui. Se poi ci saranno i soldi, perché qui si parla di un intervento comunque di 3 miliardi di euro da parte del Governo per arginare il caro tariffe, ma è una cosa solo momentanea e non per tutti. Benefici per 5,5 milioni di persone. Gli italiani sono 6 milioni, quindi qualcosa come il 9,5 per cento degli italiani avrà questo beneficio che poi corrisponde un po' alle persone che economicamente sono più disagiate delle altre, più svantaggiate, diciamo economicamente svantaggiate. Ma il 90 e qualcosa per cento pagherà il 30-40 per cento. Quindi preparatevi perché il Governo ha detto una cosa che ha illuso molti, ma in realtà ci sarà un aumento pazzesco di luce e gas. Conviene da adesso in poi stare molto attenti alle luci che si accendono. Sul gas cosa volete fare? Il gas serve per farsi la doccia e per cucinare. Dice, beh, passo all'elettricità, cambio fornelli. No, tutte e due salgono nel 30-40 per cento, quindi non cambia niente. Uno non è che può dire cucino meno, uno se deve cucinare deve cucinare. Se uno deve farsi la doccia, se deve fare la doccia. A novembre la doccia senza l'acqua calda non si può fare, almeno. C'è anche tanta gente che la fa così. Io conosco tanta gente che non può permettersi di comprare il gas e allora utilizza il fornello elettrico come quella da campo. O si fa la doccia fredda poi raccontandomi, no a me la doccia calda non piace, io sono abituata, mi piace fare la doccia fredda. Perché non vogliono ammettere di essere in condizioni economiche abbastanza pesanti, di essere in povertà relativa o in povertà assoluta. Grazie a tutti e arrivederci.